io boh a curva no primo contatto con la power play 2022 che è uno spettacolo provata nel parcheggio accendiamo appena ritirata e vediamo quanto dislivello facciamo a boost sempre a boost prima prima prova sempre così solo pedalare la bici va che è un mostro un missile piove ma la proviamo lo stesso tanto si pedala anche sopra i 25 bene eccoci siamo tornato dal primo contatto con la splendida direi rocky mountain la altitude c70 carbon vi faccio vedere anche il sistema jambotron ed è una cosa facilissima da settare perché con il tastino qua sopra sul piccolo iwalk anche questo nuovo e si riesce a fare tutto con tre secondi basta tenerlo schiacciato e si va nelle varie configurazioni dopo lo vedremo approfonditamente magari quando facciamo il video lo guardiamo per bene veramente ci vogliono 5 secondi anche mentre si è in mezzo alla montagna per settarla non serve telefono non serve niente è veramente qualcosa di straordinario il motore è impressionante come si vede anche nel video questo è solamente il primo contatto ho preso sono partito così com'era è giusto per vedere poi realmente com'è l'erogazione nella bicicletta e ero curioso di capire quanta strada facesse con una batteria non carica al cento per cento l'abbiamo presa che era all 88 per cento adesso siamo al 54 per cento e abbiamo fatto 610 metri di dislivello con il motore al massimo impressionante lo che fai fare fa è incredibile come va non ci sono parole ma guarda che roba è impressionante è impossibile divertimento allo stato puro è imbarazzante quanto va veloce in salita perché se con l'altra rocchi dovevamo comunque spingere cosa che possiamo continuare a fare con questa settandola con l'opzione che regola l'ingresso del motore si può continuare a usare l'impostazione predefinita o addirittura un po più tosta per avere un'erogazione ancora più reale quindi premere bene sul sul pedale e farsi un bel allenamento è possibile però settarla anche a più due in questo caso come tocca il pedale la bici eroga tutto quello che ha consideriamo che è molto molto più potente di un bosch o di uno shimano o di un brose ed è veramente impressionante che con il 30 per cento di batteria sono riuscito a fare 600 metri di dislivello ma fatti con mezz'ora di tempo è una roba mai provata una bici del genere l'elasticità del motore poi è incredibile si riesce a pedalare a impennare la bici giocare divertirsi è veramente una cosa straordinaria ciclisticamente sicuramente è una rocky mountain quindi dalle prime impressioni anche se non ho fatto nulla però ha una distribuzione dei pesi notevole non si avverte il peso che intorno a 24 kg questa è in configurazione la c 70 e domani proverò un'altra uscita nei soliti sentieri e domenica una bella uscita tosta e lunedì mi raccomando iscrivetevi al canale perché lunedì sera usciamo con il video della prova completa molte 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 aspettative iscrivetevi al canale accendete la campanella e e dai che questa è veramente insieme alla ieti forse la bici dell'anno ciao iscriviti al canale grazie a tutti